John Borno ragazzi John Borno allora ieri avevo detto che quello sarebbe stato l'ultimo video prima di vedere la Roma sulla Roma però effettivamente così non può essere così non può essere perché oggi sono uscite altre notizie altre indiscrezioni più che notizie perché non ne conosciamo la veridicità quindi non sappiamo quanto effettivamente siano vere però secondo me ad ogni modo andrebbero trattate tutte in una modalità attenta cioè comunque se dovessero essere vere molte delle cose che stanno girando in questo momento non dico sui social quanto nelle varie testate siti giornalistici per me è fondamentale è molto importante che insomma se ne parli detto questo oggi è uscito FC25 se riesco stasera vi porto un video della carriera allenatore su FC25 ve lo porto credo su questo canale nel video magari stasera vi spiegherò anche il motivo però mi piacerebbe comunque portarveli di tanto in tanto e su questo canale quindi mi raccomando rimanete sintonizzati perché potrebbero uscire quei video lì su questo canale qua detto questo arriviamo a noi poi vi spiegherò anche perché mi direte se secondo voi è corretto oppure no detto questo partiamo da un presupposto partiamo da un presupposto la novità del giorno è che sembra che ci sia una che ci fosse anzi una clausola di dibala che la Roma non voleva pagare entriamo nel dettaglio la notizia più clamorosa del giorno ed è questa quella che poi mi sprono a fare questo video è che si racconta di una clausola di 13 partite o 14 partite di 13 o 14 gettoni che De Rossi doveva disputare per avere un rinnovo automatico la Roma non voleva per un discorso economico rinnovare dibala e quindi avrebbe secondo fonti eccetera imposto a Daniele De Rossi di non schierare dibala proprio per non attuare questo rinnovo automatico quindi una sorta di paraculata ok anche abbastanza vistosa anche abbastanza palese una paraculata che dibala ha scelto di non accettare e ha detto che non avrebbe accettato la richiesta della Roma e che avrebbe utilizzato di bala quando più gli sarebbe servito e questo pare che sia stato uno dei motivi per cui la Roma poi avrebbe deciso di licenziare Daniele De Rossi ora vi posso dire io mi auguro se dovesse essere vero io mi auguro che non sia vero perché se dovesse essere vero mi domando tu quale progetto hai quale progettualità hai cioè tu praticamente ti sei ma io non capisco chi parla con chi a Roma chi comanda e chi non comanda chi dà le indicazioni e chi non dà le indicazioni perché se fosse vero mi domando come sia possibile che tu hai presentato il rifiuto di dibala alla rabbia saudita come se fosse stato non lo so il dio sceso in terra che aveva detto no io non vado rimango a Roma amo la Roma giuro fedeltà alla Roma e tu l'hai presentato come se fosse il tuo salvatore sceso in patria no il tuo il tuo dio e dibala che ha scelto i colori giallorossi alla rabbia saudita e poi e poi mi esce fuori se dovesse essere vero chiaramente che la Roma ha chiesto di non arrivare a quelle partite per far scadere il contratto di dibala a giugno per non rinnovargli il contratto a quelle cifre ma lei che cazzo di gioco hai fatto per tutta l'estate ma ci fai anche il problema è che ci fai una figura di merda per questo vi dico se dovesse essere così io non so chi parla con chi perché chi parla per dare delle indicazioni mediatiche dovrebbe chiaramente confrontarsi con chi invece prende le decisioni dall'alto perché se io so che la Roma vuole far fuori dibala faccio un esempio non vivo quel periodo estivo non faccio vivere da persona che ha risalto quel periodo estivo come se fosse dibala sceso in terra che ha deciso di rifiutare l'arabia saudita per la Roma ma non parlo di me me parlo di mia società cioè è la Roma che l'ha fatto passare così no mediante i post mediante le cose condivise mediante il suo il suo ridebutto allo stadio sembrava un nuovo acquisto dibala l'hanno fatto passare come se fosse un nuovo acquisto poi all'improvviso così d'amble di punto in bianco che cosa hanno deciso hanno deciso che così dicono dibala deve scadere gli deve scadere il contratto non deve arrivare al gettone mi sembra assurdo poi mi sembra ancora più assurdo perché vedevo che iurice nell'allenamento di ieri lo ha provato tra i titolari quindi ora vediamo un attimo anche se poi potrebbe anche essere perché comunque quante partite ha fatto dibala fino a 3 4 cioè comunque può essere pure che lo centellinerà da qui a a quando cazzo sarà a gennaio e poi a gennaio verrà ceduto arrivando a 13 partite potrebbe anche essere cioè non mi stupirei personalmente però mi sembrerebbe assurdo mi sembrerebbe l'ennesimo l'ennesima dimostrazione del fatto che questa Roma non ha un progetto non ha un progetto non esiste un progetto non esiste un progetto in questa Roma ed è una cosa che mi infastidisce esageratamente esageratamente poi al di là di questo pare che De Rossi e Lina Soloku abbiano litigato sempre da quello che trapela e abbiano litigato per l'ennesima volta ed è questo che poi un pochino ha scaturito la decisione di Lina di licenziare Danielino De Rossi sembra che appunto l'ennesima discussione è una discussione molto accesa con De Rossi che la gente dice che è uno yes man è uno yes man sto cazzo è uno yes man ti dice le cose proprio come come gli vengono in mente e pare che De Rossi per l'ennesima volta gli sia andato contro lei c'ha la mania di sentirsi il potere via dalle mani e quindi ha perso la testa sembra che De Rossi ripreso sempre il condizionale perché non ne ho idea non me l'hanno detto a me poi ho sentito preso incollato qui e lì poi quando tipo fai gli incroci e vedi che effettivamente quello che dice A e quello che dice B torna vuol dire che qualcosa di vero c'è no? E pare che De Rossi gli avrebbe detto alla Soloku che non doveva intromettersi nelle decisioni di campo perché non sono di sua competenza e vi posso dire ma non per Lina che io non so nemmeno se lei capisca di calcio magari capisce più di tutti noi messi insieme però io sono molto d'accordo con De Rossi se dovesse aver detto effettivamente questa frase sono molto d'accordo cioè lo dicevo ieri c'è chi fa il direttore sportivo che deve dirigere sportivamente c'è chi fa l'amministratore delegato che deve amministrare c'è chi fa l'allenatore che deve allenare c'è chi fa il dirigente che deve dirigere c'è chi fa il presidente che deve presenziare se così si può dire c'è chi fa il responsabile scouting che deve fare scouting c'è chi fa se uno se l'allenatore fa la formazione la formazione la fa l'allenatore non la fa il presidente il direttore generale amministratore delegato il direttore sportivo se gli acquisti li fa il direttore sportivo con l'allenatore al massimo il direttore tecnico non li fa anche l'amministratore delegato il presidente il proprietario il vice allenatore il capitano no non funziona così in una società in una società ci si confronta tutti ci si confronta tutti quanti però poi le decisioni le prendono chi di dovere quando io leggo che non gli avrebbe detto di non doversi intromettere nelle decisioni di campo perché non sono di sua competenza io vi dico è vero è vero non sono di sua competenza perché se voleva fare il direttore sportivo poteva fare direttore sportivo se voleva fare l'allenatore poteva fare l'allenatore se hai un altro ruolo all'interno della società sei brava faccio un esempio a fare networking è giusto che tu faccio networking ma non parlo di lina soloku cioè io posso parlare di chiunque parliamo di topo gigio no parlo di topo gigio che è figura x cioè se topo gigio ha un ruolo in dirigenza devi avere quel ruolo poi tu puoi dare un consiglio ma tu non mi puoi non possiamo arrivare allo scontro perché te impicci di quello che faccio io e poi leggevo anche un'altra cosa mi auguro che sia una cazzata però leggevo anche che questo è l'ennesima dimostrazione poi vi dico tornerebbe tornerebbe quindi stasera mi preoccupo ancora di più del fatto che Iuric non è frutto di un piano della Roma bensì semplicemente si è deciso di esonerare dei rossi per tutte queste problematiche si è andati a decidere il nuovo allenatore e pare che Beppe Riso che è procuratore tra gli altri anche di Cristante e di Mancini avrebbe detto guardate che io se volete vi posso consigliare lui che mi ha assistito e la Roma avrebbe accettato Iuric da quello che leggo che sarebbe una cosa molto grave molto grave perché un conto è se io cerco il decimo per il calcetto così ma io devo sapere che tipo di allenatore voglio devo sapere che filo logico voglio costruire tra il mio allenatore e il mio direttore sportivo devo sapere che soldi sono disposto a spendere per l'allenatore che ho devo sapere se voglio lanciare i giovani e prendere l'allenatore che lancia i giovani o vince subito e prendere l'allenatore che vince subito fare un gioco in verticale e prendere l'allenatore che fa un gioco in verticale giocare invece diciamo a catenacce e controvede e prendere l'allenatore che fa catenacce e controvede in base al mercato che ho fatto alle decisioni che ho e al plane che mi sono costruito per arrivare in un punto o in un altro a livello di brand cioè per me prende se così dovessi essere ripeto tutte queste cose stanno uscendo prende un allenatore perché è stato consigliato dagli assistiti mi sembra una follia poi oggi vedevo quel video di cronache che parlava per l'appunto di questo foglietto sventolato in faccia a De Rossi nel quale c'erano tutte statistiche in cui si sommavano mele e pede come si faceva in prima elementare dove loro andavano a dimostrare che la Roma aveva fatto il 5% dei gol in base agli expected goals che aveva fatto una vittoria nelle ultime 13 partite che aveva fatto questo che aveva fatto quello che aveva fatto quell'altro è chiaro che la Roma non sta andando bene altrimenti ne eravamo quarto ultimi in classifica cioè non c'era bisogno del foglietto di spiegazione, del foglietto illustrativo, del bugiardino semplicemente bisognava capire a che punto si era col progetto ma un allenatore si sceglie per il progetto, un allenatore si sceglie per la costruzione di un progetto un allenatore non si sceglie e non si conferma per come sta andando la stagione dopo 4 partite se hai fatto tot ti rimporta, tot gol sui ti rimporta, tot azioni in verticale, tot azioni in orizzontale queste sono cose dal mio punto di vista che non stanno né in cielo né in terra ridurre tutto il percorso di De Rossi ad un bugiardino dove sta scritto sopra un foglietto illustrativo dove è scritto sopra quello che ha fatto e quello che non ha fatto come si poteva migliorare e come non si poteva migliorare è una cazzata, cioè va bene, va bene, ma per me non va bene manco al liceo quando ti danno il voto cioè per me il voto del liceo dovrebbe essere tra l'altro dovrebbe arrivare mediante un'idea del percorso che stai facendo a scuola e invece ti danno il voto in base ai punti che hai fatto a domanda 1, domanda 2, domanda 3 però quello, ecco, così è stato gestito, se dovesse anche se era stato il fogliettino così è stato gestito il percorso di De Rossi partita 1, partita 2, partita 3, partita 4, hai sbagliato questo, questo, questo e questo questo si può da fare meglio, questo si può da fare meglio, questo si può da fare meglio, vai a casa cioè che è una cosa che per me è inconcepibile e mi dispiace per Juric che debba iniziare in un ambiente Juric non ha colpe, non è che ha fatto un colpo di stato Juric ce l'hanno chiamato e lui ha accettato perché c'ha avuto un'occasione d'oro perché era senza panchina, arriva ad allenare la Roma si gioca alle sue carte, ci mancherebbe altro però mi dispiace, però capisco anche che adesso si va verso il primo leggevo non sold out da due anni a questa parte ma è chiaro e i tifosi della Roma avrebbero fatto sold out in ogni caso davanti ad una spiegazione cioè se tu avessi dato una spiegazione per De Rossi e poi avessi preso Allegri fidati che ci sarebbe stato sold out ma tu hai sbagliato tutto ciò che potevi sbagliare negli ultimi mesi negli ultimi mesi dall'esonero di Murigno hai sbagliato ogni mossa ed è una cosa che non può non preoccuparmi non può non preoccuparmi poi leggevo anche che domani domani, dopo domani forse giochiamo dopo domani giochiamo la Roma i tifosi della Roma entreranno con 30 minuti di ritardo al trentesimo per una protesta ripeto che il problema della Roma che poi crea questo è che sempre c'è una mancanza di chiarezza se io potessi fidarmi della Roma io non mi sentirei continuamente tradito ma purtroppo sembra che lì fanno le cose come gli piace di più che non è un programma che non è una cosa che può funzionare ma ve lo dico proprio con sincerità non può funzionare e poi sembra sempre che si inizi un nuovo progetto sembra che si abbia l'ansia di iniziare un nuovo progetto leggo io me incazzo no se la Roma perde però lascia sbagliare le persone lasciale sbagliare leggevo che tutto è nato con le parole di Totti perché si sarebbero sentiti di perdere il proprio potere ma che c'entra ma che c'entra Totti che ha detto che De Rossi lo vede come un parafulmine ma quelli sono i cazzi suoi ma Totti che parla Totti dice la sua Totti non è stipendiato da nessuno Totti non lavora con nessuno cioè per me è impensabile che la Roma dia un peso alle parole di Totti da pensare di esonerare De Rossi cioè per me è una follia per me è una follia è una follia poi pare che ci siano state queste divergenze con la Soloku poi c'è anche la questione Zaleschi c'è anche la questione Zaleschi da non sottovalutare perché perché sembra che appunto De Rossi non è che fosse poi così tanto contento di mettere fuori squadra Zaleschi cioè e questa cosa la voglio sottolineare perché allora a me a me non è che Zaleschi piaccia c'è la decisione di 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 non tenere Zaleschi di mettere fuori squadra Zaleschi dopo che aveva rifiutato di andare via mi sembrava anche abbastanza coerente perché santi Dio mi ritrovo sempre lì non fai una partita buona da due anni a un certo punto dovresti anche capire di andare via cioè se non rendi vai via però la cosa che dico io è che mi pareva strano che De Rossi avesse deciso di mettere fuori squadra Zaleschi mi sembrava molto strano ma molto strano perché non era comprensibile non era non era minimamente condivisibile il fatto che Zaleschi potesse essere messo fuori squadra da De Rossi che lo faceva giocare tutte le partite infatti pare che la la Roma abbia detto a Zaleschi vai via no dai vai là no dai vai là no e allora rinnova no e allora rinnova no e allora ti metto fuori squadra e De Rossi non era contentissimo di questa cosa perché lui a lui Zaleschi gli faceva comodo perché lui si era immaginato una Roma con Zaleschi anche qua il potere mancato ad un allenatore crea sempre divergenze quando tu parli ad un allenatore tu allenatore gli dà la squadra che vuole lui che non vuol dire che gli devi dare un Bappé e Neymar vuol dire che gli devi dare i giocatori che vuole lui nel numero che vuole lui poi devi smetterla di fare robe ogni dieci minuti di creare disagi e problematiche basta la squadra è quella l'allenatore c'è il direttore sportivo c'è l'allenatore se c'è qualcosa che non va extra si difende la Roma in conferenza ma no che ve fate continuamente la guerra uno con altro uno con altro la questione di Bala pare che di Bala pare che di Bala dovesse andare via di Bala arrivato a metà sta a metà mercato pare abbia detto io sto valutando varie ipotesi sto valutando varie possibilità sto dando un'occhiata intorno ok e la Roma lì ha detto perfetto allora monitoriamoci andiamo a prendere su le che anche sta cosa no cioè se io ti dico stop in è come se io chiamo amico mi dico guarda statela non so se riesco perché mi sa che sto impegnando quel lavoro perfetto perfetto t'ho stracciato il biglietto perché perché mi hai stracciato il biglietto cioè che senso ha t'ho detto non so se riesco cioè De Rossi ha detto sto riflettendo sul mio futuro che è una cosa che per De Rossi è per De Rossi di Bala per Di Bala è lecito fare Di Bala questa sala la può fare ma come la possono fare tutti i giocatori cioè io non sono di quelli che dice eh no allora vattene subito no cioè ci sta che tu voglia guardarti intorno voglia cercare di capire se ti piace più una meta rispetto a un'altra e se il progetto ti stimola un allenatore un giocatore che fa parte di un progetto che non lo stimola è meglio che vada via ok quindi era giusto che De Rossi che De Rossi che Di Bala riflettesse sul suo futuro ed allora tu hai comprato su Le così de botto cioè che io sono contento che tu hai comprato su Le ma se vuoi viene fuori che hai comprato su Le perché hai detto di Bala va via ma Di Bala ha detto che ci stava pensando cioè tu su Le l'hai comprato molto prima non quando sei iniziato a parlare di un Di Bala che poteva andare via l'hai comprato tre settimane prima poi a un certo punto Di Bala doveva andare via non è più andato via gli è rimasto lì e io non penso che De Rossi abbia detto oh mio Dio no che sfortuna mi è rimasto Di Bala però ho detto me coglioni ho anche Di Bala sai come si divertivo quest'anno penso io cioè il problema non sarà stato De Rossi cioè io leggo sento dire ma De Rossi voleva giocare a tre gli ha dato fastidio che Di Bala è rimasto ma che cazzo vuol dire ma se tu vuoi giocare a tre giochi a tre e uno come Di Bala ma ti fa oro anche che lo metti sempre al quarantacinquesimo per te è oro è oro io credo che la Roma non abbia avuto le palle di parlare con Di Bala perché quando Di Bala dove si presentava dicendo alla Roma guardando in giro allora mi devo dirgli ok guarda allora tu guardati in giro io nel frattempo però mi costruisco una squadra che è con il 4-3-3 che è il modulo che piace al mio allenatore chiaramente se poi decidi di rimanere a me fa piacere però sappi che comunque magari giocherai leggermente un pochino meno magari giocherai un pochino fuori ruolo se partirei titolare oppure magari a partita in corso ti metterò anche trequartista però chiaramente faccio delle scelte perché sto facendo un investimento ok? perché non posso aspettare chiaramente il 20 di agosto invece mi è sembrato come se la Roma stesse lì tipo vabbè dai se ne vanno se ne vanno se ne vanno poi è rifiutato e allora dai gonfiamo il tutto e facciamola passare come se noi siamo la società forte che è riuscita a tenere l'erede di Totti che facciamogli la festa è rimasto noi il nostro amore Paolo Di Bala per poi? per poi tutto questo? per poi tutto questo? mi sembra assurdo voglio aggiungere un'ultima cosa poi ben o male ci siamo allora cerchiamo di fare giornalismo come si deve fare Juric pare sia stato consigliato da Beppe Riso Beppe Riso è l'agente di Cristante e Mancini mi può dar fastidio? sì uno perché credo che Cristante e Mancini giocheranno sempre tutte le partite allora anche con Juric perché hanno la gente in comune due perché se tu cacci De Rossi era perché avevi un progetto in mente con Juric il progetto non ce l'hai magari lo puoi costruire adesso e io non sono qui a dirvi Juric farà malissimo però sono qui a dirvi il progetto lo puoi costruire adesso sì ma non ce l'hai al momento tu non ce l'hai tu hai preso Juric perché pare te l'abbiano consigliato quindi non mi piace e soprattutto non mi piace che sia arrivato un allenatore che ha lo stesso agente di due giocatori che sono i giocatori che secondo molti dovrebbero essere messi in panchina perché sono la gang del sesto posto quindi andiamo ancora di più a esaltare il problema che abbiamo sottolineato fino a questo momento però quando vi dicevo facciamo il giornalismo fatto bene è perché ho letto dappertutto e poi me l'hanno riportato anche persone che lavorano nel calcio il che mi sembra assurdo che Beppe Riso l'agente di Juric ha lo stesso di Cristante di Mancini e di Pellegrini no smettetela di dire stronzate a me Pellegrini come calciatore non piace a me Pellegrini come capitano non piace io Pellegrini lo metterei in panchina lo farei giocare di tanto in tanto sì perché è utile Pellegrini inserirlo di tanto in tanto farlo Gesù Cristo della Roma no però l'agente di Pellegrini non è Beppe Riso l'agente di Pellegrini non è quello di Cristante non è quello di Mancini non è quello di Juric l'agente di Pellegrini la cordata che gestisce Pellegrini la GP Soccer and anzi l'agenzia che è l'SRL che gestisce Pellegrini è la GP Soccer and Management SRL quella di Pocetta quella di Pocetta che è l'agente di Pellegrini ed è l'agente di Zaleschi passasse addirittura adesso arrivasse che che scegliamo un allenatore consigliato dall'agente di Zaleschi dopo che la Roma voleva mettere Zaleschi fuori squadra e De Rossi no ci mancava che ascoltavamo l'agente di Zaleschi per l'allenatore ci mancava pure cioè ora ragazzi utilizziamo anche un po' di cervello anche perché basterebbe fare una rima questo cosa ho cercato ho cercato Pellegrini su Transfermarkt e c'è stava la pagina degli agenti Cristante e c'è stava la pagina degli agenti Yuri c'era la pagina degli agenti poi ho cercato chi è l'agente di Pellegrini e esce fuori chi è l'agente di Pellegrini e ci sono delle interviste in cui parla l'agente di Pellegrini che è chiaro che non sia anche l'agente di Cristante poi che Lina Soloku avesse in amicizia sia l'agente di Pellegrini che l'agente di Cristante ma ci sta eh cioè comunque fa parte sono due uomini che gestiscono i tre giocatori più rappresentativi degli ultimi 6-7 anni della Roma e ci mancherebbe che una figura così importante nella Roma non abbia dei buoni rapporti con degli uomini così influenti nell'ambiente Roma ci mancherebbe altro ci mancherebbe altro però non andiamo a confondere le cose perché sennò si va a falso giornalismo e si fanno a sputtanare le persone quando le cose non sono vere dal momento in cui voi mi dite e mi scrivete che l'agente di Pellegrini è lo stesso di Iurice di Cristante e di Mancini tu stai costruendo una notizia sul niente e amministrati se mi fanno arrabbiare perché già l'ambiente Roma è marcio è marcio ma marcio da far paura in più cerchiamo anche di gettare la prima notizia anche senza informarci mi sembra una mezza cazzata comunque boh io quello che vedo di ve l'ho detto vediamo un po' quello che succede mi sono dilungato pure troppo vediamo se oggi riesco a portarvi quel video là ve lo vorrei portare su sto canale qua comunque iscrivetevi buo cialalla noi come al solito ci vediamo al prossimo video ciao